Croce Rossa e Protezione Civile ci dicono che il nostro eliporto ha tutte le carte in regola per ospitare un'eliembulanza in modo permanente. È abilitato al volo notturno ed è baricentrico rispetto agli altri siti. Lo dice il sindaco di Fossombrone, Gabriele Bonci, per cui il nodo della sanità rappresenta una vera e propria spina nel fianco. Il tutto nasce da una delibera regionale, la 846 del luglio 2016, con la quale la Regione Marche dichiara di voler potenziare il servizio di elisoccorso anche nelle ore notturne H24 e con meteo avverso e conferisce mandato all'azienda ospedale Riuniti di Ancona per poter attivare il servizio entro febbraio 2017 e il relativo stanziamento e di individuare da parte della Direzione Sanitaria e Protezione Civile i siti idonei di atterraggio proprio al volo notturno. Per cui ribadisco l'impegno assoluto nei confronti del nostro ospedale ma anche degli altri ospedali chiusi perché siamo convinti che questa riforma non vada bene. Viene portata avanti male, i risultati negativi sono sotto gli occhi di tutti, quindi quella è la nostra priorità. In questa si inserisce anche il servizio dell'elisoccorso comunque importante perché poi sappiamo bene che la nostra provincia è un territorio oltre che vasto anche molto particolare nel senso trevallate per cui colline intervallate da fiumi eccetera per cui una presenza costante dell'elisoccorso sarebbe importante. Però come dico questo è un qualcosa in più rispetto a tutto il resto che va rivisto insomma. Ma ad oggi di tutto questo siamo ben oltre la scadenza di febbraio e lettera morta e per questo il consigliere regionale 5 Stelle Fabri ha presentato un'interrogazione al presidente con delega alla sanità Luca Ceriscioli su come mai tutto questo ancora non è stato attivato e la risposta è arrivata in queste ore per voce del vice presidente Anna Casini che ha di fatto slittato ad ottobre 2018 l'attivazione di questo vitale servizio visti anche i recenti fatti di cronaca.